Gentili telespettatori, buona giornata. L'Europa ci vuole fare ristrutturare casa con una direttiva. Bisogna far diventare le case energeticamente superiori, più efficaci, classe E, poi classe D, ma la maggior parte delle case italiane è in classe G. Magari in altri paesi europei, quelli nordici, le case sono già abbastanza efficienti, perché se no col freddo che fa, mentre in Italia c'è un parterre di case che la maggior parte risale a prima degli anni 70, quando non c'era nessuna accortezza sul risparmio energetico. Ci sono oltre 9 milioni di immobili da ristrutturare, da portarli almeno alla classe D. Ma i lavori da fare? Alla domanda che cosa servirebbe per conseguire il risultato proposto da Bruxelles è come il Superbonus 110, dal 2023 al 90%. Ha concesso il Superbonus a condizione che si ottenga un miglioramento di almeno due classi, certificato da un attestato di prestazione energetica, l'APE, pre e post lavori, e che la direttiva dell'Unione Europea, in base alle ultime modifiche, prevede che entro il 2030 tutti gli immobili residenziali debbano essere in classe energetica E. In genere ne fanno già parte le case costruite tra gli anni 80 e 90. Si pensi però che circa il 60% degli edifici in Italia si colloca oggi fra la classe F e G, e che entro il 2033 la direttiva impone poi il passaggio obbligatorio alla classe D. Non solo alla classe E, ma alla classe poi D. Migliorare di due classi energetiche. Bisogna fare obbligatoriamente il cappotto termico dell'involucro e cambiare la centrale termica, la caldaia. In pratica la sostituzione della candaia. Però bisogna fare entrambi i lavori. A questi interventi si possono aggiungere altre opere dette trainate. Sono la sostituzione dei vetri, delle finestre, o meglio, dei serramenti, e l'installazione del fotovoltaico. Ma quanto ai costi non è possibile calcolare in maniera puntuale l'importo complessivo di una riqualificazione di tutta l'Italia. Ma partendo dai costi ufficiali del super bonus, 62,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2022, si può tentare di individuare almeno l'ordine di grandezza della spesa. I dati di Enea, aggiornati al 31 dicembre, ci dicono che hanno chiesto l'agevolazione 208.622 proprietari di edifici unifamiliari per una spesa totale di 23,7 miliardi di euro. E' uno sborso medio di 113.757 euro. 102.725 proprietari di unità funzionalmente indipendente per un importo totale di 10 miliardi di euro. E' una spesa di 97.000 euro per edificio. Infine 48.000 condomini, con un totale di 28,8 miliardi di spesa e una media di 598.000 euro a condominio. Quindi gli importi sono assolutamente elevati. Pensate a un condominio, 600.000 euro da dividere in tutti gli appartamenti che ci sono. Oppure l'esborso medio di 114.000 euro per una villetta. proprietari di edifici unifamiliari, 113.757 euro di media, vuol dire che quelli che hanno tutti una casa che è da sola, che non è in un condominio, di media spenderebbero quasi 114.000 euro. Il costo di un altro appartamento. Ecco, gli appartamenti così, in un edificio come un condominio, condomini di media hanno 600.000 euro di spesa. Quanti appartamenti ci sono? 10, 12, 15? Fate il conto. Ci vogliono almeno, in un condominio, almeno 30.000 euro o di più. E poi ci sono i 97.000 euro di unità indipendenti, semi-indipendenti, villette a schiera, case di corte, si fa a 97.000 euro. Ecco, si passa da 114.000, 97.000, 30.000, 40.000, quindi sono importi realmente non accessibili quasi a nessuno. E poi anche quelli che possono farlo, magari hanno anche altri progetti, non quello di fare il cappotto alla casa. Su 12,2 milioni di edifici presenti in Italia, almeno 9 milioni costruiti prima del 1974 non sarebbero in regola e sarebbero bisognose di riqualificazione. Tenendo conto degli immobili esentati, ad esempio le case di superficie inferiore ai 50 metri quadri, almeno due terzi degli immobili censiti, circa 8 milioni, abbia bisogno di ristrutturazione. A questo punto basta una semplice proporzione per arrivare al risultato. E così, dei 12,2 milioni di edifici, 6,3 sono autonomi. Due terzi, se sono 4,2 milioni, computando 105 milioni di euro per edificio, media tra case autonome e funzionalmente indipendenti, come definite dalle norme del super bonus. E considerando che questi 4,2 milioni di abitazioni, 311.000 circa, hanno già provveduto, la spesa teorica sarebbe di 105.000 per 3,9 milioni, cioè 409,5 miliardi di euro. Per ogni condominio, così, una spesa di circa 600.000 euro, come vi dicevo prima. E di media, però, il calcolo che avevo fatto prima è diverso. Si parla di media 6 abitazioni per condominio, quindi l'adeguamento sarebbe circa 100.000 euro ad appartamento, non i 30.000 che avevo ipotizzato prima, ma 100.000 euro ad appartamento, perché di media un condominio in Italia ha 6 abitazioni. Certo, poi ci sono i condomini, quelli da 15, 20 appartamenti, ma un condominietto sono 600.000 euro ad appartamento, cioè lo comprate un'altra volta, l'appartamento. A quel punto è meglio vendere la casa e comprare un edificio che è già ristrutturato energeticamente e risparmiate un bel po' di soldi. Complessivamente costerebbe questo un anno di PIL. Più PIL per tutti. Un anno di PIL, 1600-1800 miliardi di euro, è una cosa fattibile? Beh, ovviamente no. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie. Grazie.